Camisano Vicentino, scoperta dai carabinieri una vera e propria raffineria della droga in un appartamento al pian terreno di una palazzina nelle campagne di Camisano Vicentino in località Rampazzo. Sequestrati dai militari 30 kg di eroina che, se messa sul mercato, varrebbe almeno alcune centinaia di migliaia di euro. All'interno dell'appartamento, oltre alla sostanza stupefacente, i carabinieri hanno trovato e sequestrato tutto il necessario per il taglio e il confezionamento delle dosi. Due le persone invece finite in manette, due albanesi di 40 e 33 anni già conosciute alle forze dell'ordine. I militari sono arrivati alla raffineria a seguito di un'articolata attività di indagine che ha accertato il via vai di alcuni medio-piccoli spacciatori che si andavano a rifornire proprio nell'abitazione di Camisano.